50 ragazze provenienti da varie regioni d'Italia hanno partecipato alla finale nazionale della Splendida d'Italia. Un concorso, lo ricordiamo, nato e partito da Fano. Quindi le chiedo com'è stata questa avventura e questa sfida. Il concorso è partito il tour invernale a novembre, proprio un marchio made in Fano perché è un marchio di mia proprietà. Abbiamo coinvolto varie regioni che stiamo inserendo man mano perché sto facendo proprio una scelta mirata dei vari agenti regionali che devono avere la responsabilità di poi selezionare le ragazze in varie località. Da lì, dal tour invernale, sono arrivate queste splendide ragazze 50, dall'Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, le Marche ovviamente e anche la Calabria. Dopo queste selezioni poi si è arrivati alla fase finale. Ci ha ospitato il comune di Chianciano Terme e abbiamo avuto il patrocino del comune e quattro giorni di passaggi giuria, intensi passaggi giuria dove le ragazze sono state valutate non solo per la bellezza ma per la parte caratteriale, per la posa fotografica. Uno anche dei giudizi era sull'empatia, quindi quello che riescono a comunicare in pochi minuti alla giuria. Direi che sono state molto brave tutte di alto livello, ovviamente molto emozionate perché per qualcuno era anche la prima esperienza in finale nazionale, non è così semplice. Chi ha vinto il concorso? Il concorso è stato vinto da Valentina Di Giovanni, 18 anni, calabrese. E poi ci sono state anche altre ragazze premiate, tra cui una fanese. Giustamente Giulia Stefanelli che ha preso una fascia importante e la seconda classificata è della provincia di Rimini, però sempre appartiene a me, insomma al mio gruppo ed è Emma Brand e l'altra Manila Violini di Agugliano di Ancona. Però la nostra fanese Giulia Stefanelli se l'ha cavata molto molto bene. Progetti? Progetti, adesso ripartiamo di corsa per il tour estivo. Siamo già in dirittura d'arrivo per le prime partenze, poi avremo la finale nazionale in Calabria a fine settembre. E nel frattempo le ragazze che hanno vinto le fasce saranno accompagnate a Milano per fare accesso a delle agenzie di moda che già ci hanno fatto richiesta. Grazie a tutti.